Il populismo che cos'è? Un approdo sicuro, è un rifugio e che cos'è il populismo? Il populismo è difficile da definire in modo sintetico. Io penso che la migliore definizione sintetica sia questa. Il populismo è il tentativo di alcune forze politiche di dare una risposta alla domanda di protezione che sale dai paesi europei e non solo europei. Protezione sia nei confronti della crisi economica e delle sue conseguenze e protezione nei confronti dei problemi della sicurezza. Protezione sociale come difesa rispetto a criminalità e immigrazione che stanno al centro delle preoccupazioni popolari. Questa domanda di protezione è sostanzialmente ignorata o elusa dalla maggior parte delle forze tradizionali ed è invece presa molto sul serio da parte delle forze populiste. Che poi le loro risposte siano adeguate è tutta un'altra questione. Però la premessa è prendere sul serio questa domanda, accorgersi che questa domanda c'è, non deriderla, non ignorarla, non eluderla. Allora le forze populiste sono questo, sono il tentativo di prendere sul serio questa domanda di protezione. Ma come mai si dice la sinistra, la socialdemocrazia ha abdicato da tutto questo e adesso sono le cosiddette forze che per comodità giudichiamo populiste invece a farsene carico? Perché dal suo punto di vista? Non se ne fanno carico. Ma guardi è un processo che è iniziato molto tempo fa, si tende a dire che c'è stato il distacco fra la sinistra e i ceti popolari negli ultimi anni con il governo Renzi. Ma è assolutamente sbagliato. Il distacco della sinistra dai ceti popolari inizia negli anni settanta, verso la metà degli anni settanta e prosegue molto rapidamente durante la seconda repubblica. Il governo Renzi porta a perfezione questo processo, ma è un processo che è iniziato 40 anni fa. E com'è iniziato? È iniziato quando la sinistra ha cominciato a preoccuparsi di più dei cosiddetti ceti medi riflessivi. Ceti medi urbani. E come ha fatto questa metamorfosi? L'ha fatta molto semplicemente abbandonando progressivamente i temi strutturali e dedicandosi a decine, letteralmente decine, di temi importanti ma sovrastrutturali. Che oggi i ceti popolari snobbano. Pensate a temi come le coppie di fatto o le coppie omosessuali, i diritti delle donne, l'ambiente, il politicamente corretto, l'equaterosa, l'indulto, l'amnistia. Ci sono decine di temi di cui la sinistra si è fatta portatrice, spesso con posizioni antipopolari, perché su indulto e amnistia credo sapiate tutti che i ceti popolari non sono sulla posizione della sinistra, sono su una posizione rigorista e severa tendenzialmente. Allora la sinistra ha cominciato a occuparsi di queste cose che costano poco dal punto di vista della politica economica, fanno immagine, ma sono lontanissime dai problemi concreti della gente che vive in periferia, che vive nei quartieri popolari. Finché l'economia cresceva o non rallentava troppo, questo non è stato un grosso problema e quindi la sinistra non si è manco accorta di aver perso il popolo. Quando però nel 2007-2008 è iniziata la crisi economica, la gente ha cominciato a presentare il conto e a questo si è aggiunto l'esplosione dei flussi migratori che creano problemi soprattutto a chi sta in basso e a questo punto il cocktail era pronto.